Ben trovati alla terza puntata di diritto e rovescio dalla parte dei consumatori, come ormai abitudine in questa terza stagione iniziamo con una piccola clip, con un piccolo messaggio da parte della stessa Feder Consumatori, si parla di una novità recente, ascoltiamo. La Feder Consumatori è qui per darvi una delucidazione importante su una novità legislativa che da poco ha interessato il panorama italiano, che è la diminuzione del termine che è predisposto per l'impugnazione delle multe. Quindi nel caso di sanzione a seguito di infrazioni stradali il consumatore, il cittadino in generale, non potrà più attendere 60 giorni per proporre il procedimento, installare il procedimento in tribunale, ma dovrà ahimè rispettare il termine più breve dei 30 giorni, appena di inammessibilità dell'azione proposta. Quindi mi raccomando attenzione a questo termine molto più breve che decorre dal momento della notifica e della multa oppure della contestazione immediata della multa stessa. Questo vale per tutti i procedimenti instaurati davanti al tribunale, mentre rimane invariato il termine di 60 giorni nel caso in cui si voglia invece presentare ricorso davanti al prefetto. Adesso invece partiamo con la puntata vera e propria di diritto rovescio, oggi parliamo dei nuovi ticket della sanità. Dottore mi scusi, mi scusi dottore c'è mia moglie con una crisi cardiaca in alto, mi serve il cardio a donar fiame, mi dica che ce l'ha, mi dica che ce l'ha dottore, dottore mi dica che ce l'ha, mi dica che ce l'ha, dottore, signore ti ringrazio, signore ti ringrazio, signore mio ti ringrazio, ecco l'ho. Guardi che amuto non ho fatto più, sono 6 mila di euro. Mi dispiace il miniccio, ah no, mi dispiace, mi dispiace che mi muoio, è che ci ho scritto presso, lo Stato la deve piantare di fregare il cittadino, il cittadino dice basta, mi dispiace, morirà mi muoio, morirà, ah io devo attescare, c'è chi c'è ne e c'è chi sape. Questa è la nostra piccola copertina con un verdone d'epoca per introdurre l'argomento di oggi di cui parleremo con gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio, vado a presentarli partendo dalla mia destra il consigliere regionale del PDL Marco Lombardi, buonasera, buonasera anche a Roberto Piva consigliere regionale del PD e vicepresidente della commissione sanità a livello regionale e poi a Annalisa Bettini responsabile feder consumatori per quanto riguarda i temi della sanità, viene direttamente da Bologna e abbiamo il presidente di Federfarma Rimini, Roberto De Luigi. Buonasera. Allora cominciamo a parlare di questo argomento, è un argomento di cui si è discusso già molto nei mesi precedenti, Piro a parto da lei, 29 agosto è la data in cui l'Emilia Romagna ha introdotto questi ticket, come si è arrivati a questa decisione? Facciamo una piccola storia. Buonasera a tutti, è una rimodulazione dei ticket, quello è il termine perché i ticket erano già operativi e presenti, ma si è arrivata quando il 17 luglio del 2011 in gazzetta ufficiale è stato pubblicato il provvedimento del governo che prevedeva l'introduzione di 10 Euro di ticket ogni ricetta per le prestazioni ambulatoriali di diagnostica e di specialistica, questo è stato il termine, era un termine immediato, tant'è vero che alcune regioni lo hanno applicato subito, applicando i 10 Euro per ricette e via. Devo dirvi, giusto per conoscere come le norme a volte regolano poi le decisioni anche delle regioni o di tutti coloro, che in realtà è stata rintrodotta una norma che era già prevista nella finanziaria del 2007, dove al servizio sanitario nazionale venivano tolti 834 milioni di Euro, dicendo questi 834 milioni di Euro le regioni le devono riprendere attraverso l'introduzione dei ticket di 10 Euro per ricetta, peraltro la modulazione dei ticket per reddito è in vigore dal 1993, quindi non è una norma nuova, per cui ci si è trovati come regione Emilia Romagna a dovere affrontare questo problema, le strade erano diverse, o applicare subito come tante diverse regioni hanno fatto e quindi in maniera indistinta 10 Euro per ogni prestazione, quindi ogni ricetta 10 Euro e questo forse era il passaggio più semplice e meno faticoso anche e poi dicendo è sempre colpa, anzi di questo mi piace mai intervenire dicendo, racconto i fatti, poi le responsabilità ognuno se le ricava dalle informazioni che noi diamo, quindi era semplice dire applichiamo i 10 Euro e se tu paghi 10 Euro in più è colpa del governo, questo era semplice ma non è stato così e quindi nel pieno mese di agosto la regione ha predisposto invece un provvedimento che è entrato in vigore il 29 d'agosto e doveva essere obbligatoriamente preso in carico dalle regioni entro il 29 d'agosto, se no vi erano due provvedimenti, una la denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale e l'altra la sospensione per il bimestre successivo della quota di finanziamento nazionale alle regioni, questi erano i termini. Allora si è arrivata a una, e quindi vado verso la conclusione, a una rimodulazione dei ticket per fasce di reddito, con tre fasce che conosciamo tutti, 36 mila Euro, poi da 36 a 70, da 70 a 100 e poi questi sono i fatti, poi se il commento, visto che ho rubato un po' di tempo, lo facciamo dopo. Lombardi, le cose sono andate così, ma qual è la sua opinione in proposito? Intanto devo dire che dato che siamo in una trasmissione, in un dibattito, faccio fatica a contrappormi a quanto ha detto il collega Piva perché lui ha ricostruito le cose in maniera abbastanza obiettiva, contrariamente a quello che invece ho visto in altre occasioni, compreso gli opuscoli che la regione ha stampato per informare i cittadini sulla vicenda dei ticket. Solo alcune precisazioni rispetto a quello che diceva Piva, intanto è stato detto che si riferisce il provvedimento dei ticket ad un provvedimento della finanziaria 2007, forse non tutti si ricordano che nel 2007 governava Prodi e in quel momento il provvedimento è stato firmato dalla ministra Livia Turco. Poi, visto che era un provvedimento già allora iniquo, perché con questi ticket che riguardano le visite specialistiche e gli esami, praticamente si metteva, con questo ticket di 10 Euro si creava una posizione fittizia rispetto fra gli organismi pubblici e gli organismi privati, cioè per i cittadini alla fine era quasi indifferente visto il costo rivolgersi alle strutture pubbliche e private. Questo comportava che il pubblico rimaneva con in carico un servizio che costava e probabilmente i cittadini si orientavano anche verso il privato. Questo è stato il motivo per cui il governo Berlusconi, appena insediato, si è fatto carico delle istanze che venivano dalle regioni e sono stati aboliti i ticket, che c'è il sistema, il servizio sanitario nazionale si è assorbito quel costo. Recentemente nell'estate scorsa, vista la situazione attuale, si è detto guardate non siamo più in grado di far fronte a quel costo lì. Io poi sono in polemica con la regione rispetto al fatto che le regioni siano state obbligate a introdurre questi ticket. Secondo me non è esattamente così, per due ordini di motivi. Uno perché è chiaro che le regioni hanno provato a non introdurre i ticket chiedendo al governo di introdurre nuove tasse, per esempio sulle sigarette. L'accisa sul tabaccio. E questo non è stato seguito. Ma non si è approfondito la vicenda relativa al fatto che le regioni potevano con risorse proprie far fronte ai ticket. In un primo tempo c'è stata una dichiarazione del Ministro Fazio che disse che non c'era nessun obbligo, salvo il fatto che le regioni non potevano aumentare il debito sanitario, dovevano far fronte con risorse proprie. Altre risorse per coprire quella cifra. Ovviamente nella situazione attuale per le regioni non sarebbe stato facile e quindi si è ritenuto più semplice introdurre questi ticket. Qui ci sono altre due varianti, una legata al fatto che la regione Emilia-Romagna già oggi, già da anni, aumenta con circa 200 milioni di Euro di risorse proprie il Fondo Sanitario Nazionale. Quindi la regione Emilia-Romagna avrebbe una disponibilità di 200 milioni di Euro che oggi gestisce in un altro modo per far fronte ai ticket. La regione Lombardia per esempio questo margine non ce l'ha. L'altra questione è che ovviamente per far fronte a questi ticket si è poi ritenuto di allargarlo anche ai medicinali che non era inizialmente previsto nel provvedimento. Parlava solo di visite specialistiche. Esatto, ma per spalmarlo su una platea più ampia e quindi poterli modulare e ridurre si è allargato anche alle medicine. Inoltre a mio avviso questa modulazione non è obiettiva perché tiene conto semplicemente del reddito e quindi ci sono alcune discrasie nell'applicazione. Magari su questo tema ritorneremo più avanti nel corso della puntata. Esatto, allora ne riparliamo dopo. De Luigi, parliamo di una rimodulazione che impatta anche sull'attività delle farmacie. Quali sono le problematiche che avete riscontrato in modo particolare in questi primi tempi? Sì, appunto come ha detto Lombardi la novità vera è questa, cioè l'introduzione del ticket che ha fatto la regione Emilia-Romagna assieme anche a altre regioni sui medicinali, sui farmaci perché sappiamo che il ticket sui farmaci era stato tolto mi sembra nel 2099, c'era un altro tipo di ticket e è stato reintrodotto. Quello che, per chiarire un po' le cose, quello che noi fino a ieri chiamavamo ticket e che veniva pagato sui farmaci generici non è impropriamente veniva definito, viene definito anche da noi ticket per far capire la gente, ma in realtà quella è la differenza che c'è da pagare tra i farmaci non generici e il generico. Questo è un vero e proprio ticket, cioè quello basato sulla capacità reddituale del nucleo familiare. L'impatto è stato di questo ticket abbastanza gravoso per le farmacie perché ovviamente è stato anche introdotto dalla regione così diciamo abbastanza all'improvviso, ecco non era stato, sappiamo c'era questo provvedimento di luglio, la regione Emilia-Romagna ha aspettato un pochettino, ha vagliato un po' le cose, poi dopo diciamo verso i primi di agosto ci ha convocato dicendo che avrebbe voluto introdurre questo ticket anche sui farmaci e per cui c'è stato poco tempo di informare i cittadini e poco tempo anche per prepararci noi. Poi dopo c'è stata questa questione un po' così che ha creato un po' di inizialmente un po' di panico per i cittadini e la famosa autocertificazione. È arrivata da noi non il giorno 29, è arrivato con qualche giorno di ritardo, l'abbiamo distribuita, all'inizio non ce ne erano forse quantità sufficiente, poi c'è stato il problema di dove presentarla, dove consegnarla. Inizialmente non venne chiesto perlomeno a Rimini alle farmacie subito di dare la loro disponibilità anche ad accettare il ritiro di queste autocertificazioni, sostanzialmente a vidimarle, cioè con un timbro veniva ritirata e consegnata una coppia al cittadino. Quindi la prima settimana c'è stato un pochettino, penso che si è risaputo, file alle sportelle asole. La seconda parte di trasmissione vedremo anche qualche cittadino incolonnato, abbiamo recuperato le macchine. Chiaramente la necessità di informare i cittadini è stata espletata dalle farmacie, diciamo che sono stati giorni veramente in cui abbiamo dovuto parlare tantissimo per spiegare un po' come funzionava, cosa dovevano fare, dove dovevano rivolgersi e via dicendo. Abbiamo fatto forse un pochettino anche da commercialisti, da fiscalisti per spiegare il reggio lordo familiare eccetera. Analisa, veniamo anche a chi può aver preso forse peggio questa manovra, cittadini poi siamo tutti cittadini, quindi siamo tutti interessati. Che tipo di lamentere o comunque di richieste sono arrivate al vostro sportello? Dunque la nostra associazione sono arrivate richieste soprattutto di chiarimenti su come poter compilare questa autocertificazione, su dove potersi recare, perché ovviamente i ticket sono entrati in vigore dal 29 di agosto e quindi la gente al rientro dalle ferie si è trovata con dei nuovi ticket, con una nuova burocrazia a cui dover adempiere. Quindi li abbiamo indirizzati in un primo momento al CAF, alcuni hanno voluto essere ovviamente aiutati e poi hanno portato le varie autocertificazioni presso i CUP. Ovviamente le lamentele sono state delle lunghe file, nonché anche in merito ai medici di base che non erano stati informati tempestivamente delle nuove autodichiarazioni, non sapevano dove dovevano apporre le indicazioni relative al reddito, quindi R1, R2 relative alle fasce di reddito e tra l'altro da quello che riferivano gli utenti i medici di base avevano avuto anche un ritardo nella consegna del nuovo ricettario. Tutto questo ha creato ovviamente dei disguidi per l'utenza, in più c'era anche la questione che le visite che erano state prenotate in un periodo precedente all'entrata in vigore dei nuovi ticket, i cittadini che non avevano ancora corrisposto il ticket si sono trovati con un ticket maggiorato e coloro che invece lo avevano già corrisposto ovviamente si trovano a dover pagare un'integrazione del ticket successivo. Tutto questo è inciso ovviamente sulle famiglie in modo considerevole se consideriamo il fatto che una prima visita semplice, ambulatoriale è passata da 18 euro a 23 che seppure sono 5 euro però in un bilancio familiare comunque incide notevolmente. Per poi passare, questo ovviamente se si imprima, cioè in tutte le fasce la prima visita costa 23 euro però se poi passiamo ad altre prestazioni quali siano TAC, risonanze e prestazioni più specifiche ovviamente passando anche alle altre fasce di reddito c'è anche un costo ulteriore, un'aggiunta di quota di compartecipazione pari a 5 o 10 euro e quindi insomma diciamo che la spesa per le famiglie aumenta in questo senso. Abbiamo dato qualche numero in senso positivo, abbiamo parlato di rimodulazione, abbiamo parlato di fasce di reddito, abbiamo cercato di fare un po' di ordine in questa scheda. Dal 29 agosti in Emilia Romagna i cittadini devono fare i conti con i nuovi ticket della sanità modulati su fasce di reddito. I ticket sui farmaci non riguardano chi ha un reddito inferiore ai 36.152 euro e chi già usufruisce di un'esenzione. Per i redditi tra 36.153 e 70.000 euro si paga un euro in più a confezione, 2 euro per redditi tra 70.100.000 e 3 euro per quelli superiori ai 100.000. Per le visite specialistiche il ticket aumenta di 5 euro per tutti indipendentemente dal reddito salvo esenzioni. Viene però introdotto un ticket di 46.15 euro per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale della cataratta e della sindrome del tunnel carpale. Per risonanza magnetica e TAC l'importo resti inalterato per redditi fino a 36.152 euro, sale a 50 euro per la fascia intermedia e a 70 per redditi oltre 100.000 euro. Viene introdotto poi un ulteriore ticket sulla ricetta per esami che superino per valore i 10 euro. Si tratta di 5 euro nella fascia minore, 10 tra 70.000 e 100.000 euro e 15 oltre i 100.000 euro. Nessun cambiamento invece per l'accesso al pronto soccorso così come restano confermate le esenzioni nazionali e regionali. A livello nazionale il governo aveva previsto l'applicazione del ticket lineare da 10 euro che non riguardava però i farmaci. Tra i motivi di polemiche in regione il fatto che il calcolo dei redditi del nucleo familiare preveda la somma di quelli percepiti dai componenti indipendentemente dal numero di persone a carico. Piva, torniamo a lei per parlare proprio di quest'ultimo argomento, del sistema utilizzato. Tra l'altro l'Emilia Romagna ha presentato insieme a altre due regioni, la Toscana e l'Umbria, se non sbaglio, questo sistema di calcolo dei redditi. Poi in Toscana in realtà si usa l'ISE, mentre da noi si è deciso di utilizzare il cumulo dei redditi lordi. Ma guardi, intanto proprio per entrare nel merito, seguendo velocemente le tabelle, il provvedimento regionale parte da un presupposto che chi ha di più paga di più. Questo è dato lì. Si citava il costo di una visita specialistica, io ho messo qui una tabella quindi tutti possono usufruirne. Una visita specialistica pre-rimodulazione costava 18 Euro. Se la regione avesse applicato il ticket governativo di legge, 18 più 10, 28. Invece con la rimodulazione regionale costa 23 Euro. Quindi mi sembra che questo, il cittadino rispetto all'applicazione del ticket nazionale, usiamo questo termine per capirci, con il ticket regionale paga meno 5 Euro. E questo potrei continuare con tanti altri esempi, fino ad arrivare a chi ha giustamente redditi maggiori di sopra i 100.000 euro, parliamo sempre di definizioni territoriali per gli abitanti nostri, che poi parliamo anche ai nostri abitanti, pagano nettamente di più in proporzione. Per i farmaci è che questo è stato possibile spalmando la rimodulazione anche sulla farmaceutica, dove parliamo di 1, 2, 3 Euro. Questa è l'entità della manovra. Allora io dico e mi domando e domando, se una visita specialistica si fa risparmiare 5 Euro, noi teniamo conto che le prestazioni di diagnostica ambulatoriale e strumentale sono in continuo aumenti, in 5 anni in regione si è passate da 64 milioni di prestazioni a 75 milioni di prestazioni, quindi per farvi capire anche che incidenza 5 Euro in meno su una ricetta che cosa può e su una prestazione cosa può volere. Quindi è sembrato un provvedimento eco maggiore rispetto a quello di dire, come ritenevo, 10 Euro appunto era meno faticoso, fra l'altro tutto questo lavoro è stato fatto nel mese d'agosto. Nel mese d'agosto sappiamo che per tutti, a meno che di chi lavora nel turismo, ma anche per loro o per altri versi è un mese particolare, quindi nonostante ciò siamo arrivati puntuali. Per quel che riguarda il reddito, anzi vi sono accordi sottoscritti perché la regione ha convocato Federfarma, ha convocato i sindacati, il mondo dell'imprenditoria e l'accordo siglato è relativo al fatto che si dice oggi abbiamo i redditi, si riconosce che solo i redditi non è sufficiente a riconoscere la vera fragilità della famiglia, questo è vero, tant'è vero che sono in corso e penso che a breve probabilmente saranno proposte modifiche introducendo un equometro, usiamo questo termine, che parte da Lisea e consideri veramente le capacità di una famiglia, i beni mobili, gli immobili e tutto quello che ne compete, quindi un Lisea è modificato ed è vero, sull'Lisea però e poi concludo, tenete conto che in Emilia Romagna intanto il 60% dei nostri abitanti non pagano il ticket, quindi tutto questo discorso che facciamo cade su un 40%, questa è una parentesi, l'Isee al momento solo 328 mila famiglie pari al 16% della popolazione possiedono l'Isee, cioè l'Isee non è un modulino che uno può compulare da solo, è una molte pagine, avrebbe un impatto superiore a quello dell'autocertificazione, certo perché col costo, ci sono calcoli dove l'Inps ne avrebbe un aggravio perché i moduli Isee si va ai CAF, cioè ai centri di assistenza fiscale che hanno una convenzione con l'Inps però avrebbe un aggravio l'Inps di 22 milioni di Euro circa, quindi alla fine sulle casse generali, però anch'io sostengo che solo limitandoci al reddito non riconosciamo le vere fragilità delle famiglie, però era l'unica possibilità di arrivare in tempo e di dati disponibili perché tutti hanno la denuncia dei redditi. Lombardi so che sul tema voleva intervenire, adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi tocca a lei. Ancora diritto e rovescio dalla parte dei consumatori, si parla di ticket, della rimodulazione dei ticket sulla sanità, prima della pausa Lombardi voleva intervenire, Pira ci ha spiegato quello che è il motivo per cui la regione ha deciso per il cumulo dei redditi ed è una situazione sulla quale voi anche a livello regionale vi siete opposti, avete presentato anche una mozione se non sbaglio. Sì, io devo dire che per esempio sulla questione dell'applicazione dell'Isee che è stata una delle posizioni che in qualche modo ha criticato l'intervento della regione, ho anche io qualche dubbio perché oggi noi viviamo in un momento in cui i cittadini vogliono ovviamente risparmiare ma vogliono anche avere meno beghe burocratiche possibili, allora qui bisogna capire cosa abbiamo di fronte. L'Isee di solito si usa per servizi pubblici di una certa entità, gli asili nido per esempio dove ci sono delle cifre diverse, mettere in moto un meccanismo che come è stato spiegato assomiglia molto a un'ulteriore dichiarazione dei redditi, per avere un vantaggio di 2-3 Euro bisogna calcolare se poi magari spendi di più dal commercialista che nel risparmio del ticket. Quindi sull'Isee anche noi abbiamo qualche perplessità in più. La cosa invece che non ci trova d'accordo è il fatto che nella regione Emilia Romagna viene considerato il nucleo familiare e quindi non si tiene conto di tutte quelle situazioni legate sia alla presenza dei figli, una famiglia che complessivamente guadagna 40 o 50 mila Euro e ha due figli o ne ha 6 o ne ha 4 o ne ha 3 non è nelle stesse condizioni. Quindi a nostro avviso va introdotto il fattore famiglia proprio per poter calcolare a parità di reddito l'incidenza dei figli sulla famiglia. Poi c'è la nota vicenda dove la regione Emilia Romagna non certo piva, però molti nella maggioranza hanno cavalcato in passato per quanto riguarda le unioni di fatto ad esempio, questo è uno di quei classici casi in cui le famiglie vengono penalizzate perché chi non è, chi convive senza il vincolo del matrimonio si trova in una situazione economica avvantaggiata rispetto a chi vive con lo stesso reddito e avendo contratto il matrimonio. Quindi noi riteniamo che le unioni di fatto debbano essere in questo caso assimilate al matrimonio e quindi soggette al cumulo dei redditi e quindi al pagamento del ticket laddove ce ne siano le necessità. E la regione si sta muovendo, mi sembra di aver capito, anche in questa direzione piva. Sì, adesso ancora stanno lavorando i tecnici, quindi ancora non siamo, io perlomeno a livello nostro consigliare di commissione ancora non c'è stato dato nessun elemento, però una modifica sicuramente va fatta perché è molto iniquo l'applicazione dei 10 Euro, così tac di colpo, ma è anche iniquo trascurare le vere fragilità familiari. Come federo consumatori avete avuto anche delle richieste in tal senso di delucidazione su questa situazione relativa ai redditi? Che idea avete sulla possibilità o meno di applicare il quoziente familiare oppure si era parlato di ISEE? Dunque, per quanto riguarda l'ISEE, l'ISEE è uno strumento che è già utilizzato in ambito sanitario per quanto riguarda le prestazioni odontoiatriche, quindi è già uno strumento noto. Ha degli elementi di fragilità sicuramente anche l'ISEE perché tiene conto della numerosità delle famiglie, dei patrimoni, tiene conto di alcune detrazioni, tipo per esempio sugli affitti, quindi ci sono degli elementi di fragilità, quindi probabilmente è uno strumento che deve essere effettivamente affinato e messo a punto per l'utilizzo. Inoltre l'ISEE è stato anche utilizzato in ambito sanitario anche per la destinazione degli assegni di cura e questo comunque dà spazio ad ampio margine di discrezionalità da parte delle amministrazioni pubbliche che comunque utilizzano l'ISEE non solo come parametro reddituale ma inseriscono anche degli altri elementi, quali possono essere familiari a carico, ma non solo i familiari a carico, tipo per esempio negli assegni di cura vengono presi in considerazione anche altri elementi, tipo proprio la struttura familiare, quindi non solo la situazione economica dell'anziano, quindi l'ISEE deve essere utilizzato, deve essere proprio regolamentato in un modo opportuno. De Luigi, qual è la sua opinione? Sicuramente un aggiustamento per quello che riguarda i nuclei familiari, come citavo prima nella pausa, così sicuramente ci vuole, poi ci sono dei casi un po' particolari che vanno a rendere tutto il meccanismo un po' farraginoso, tipo per esempio ci sono i cittadini che vengono da fuori regione, faccio per dire, io parlo più che altro di problematiche a livello che devono tutte le volte fare un'autocertificazione praticamente, quindi abbiamo d'estate molti turisti, abbiamo studenti che vengono da fuori regione, dall'università, quindi sono casi che si manifestano, si propongono, queste persone qui non essendo cittadini dell'Emilia Romagna, della regione devono tutte le volte fare un'autocertificazione ogni volta che si presentano, poi c'è il caso anche dei disoccupati che a loro volta devono presentare un'autocertificazione particolare. Quindi ci sono delle categorie che tuttora sono in una situazione di disagio particolare. Esatto, il disoccupato deve anche lui presentare un'autocertificazione particolare nuova, perché lo stato di disoccupazione potrebbe non perdurare per lungo tempo, quindi tutte le volte deve rinnovarla, perché potrebbe da un momento all'altro trovare lavoro e non trovarsi più nello stato disoccupato. Quindi ci sono delle situazioni di questo tipo, queste che io le segnalo così a modi di informazione anche per gli stessi studenti, per i cittadini, per chi deve trovarsi, si trova in queste situazioni. Poi diciamo che il problema delle autocertificazioni è stato risolto, poi c'è stato un po' di marasma nei primi mesi, ma tuttora è possibile ripresentarla. C'è il discorso anche che l'autocertificazione stessa non ha una validità infinita per tutta la vita, nel senso che se l'anno successivo il reddito cambia, va rifatta, va ripresentata, va riverificato il reddito familiare, perché sappiamo che magari sì per un euro o due, però se fai una dichiarazione falsa, cioè se tu l'anno dopo non ti ricordi di aggiornarla. Anche per pochi euro fai una dichiarazione falsa e sei soggetto però a sanzioni piuttosto gravi, perché fai una dichiarazione, un'autocertificazione che non risponde al vero, quindi bisogna stare anche attenti a queste cose qua. A queste modifiche. A queste modifiche, sì. Abbiamo cercato anche di ripercorrere gli ultimi mesi, dal 29 di agosto ai primi di ottobre, che hanno portato poi all'applicazione, alla rimodulazione dei ticket attraverso i servizi del nostro telegiornale. Vediamo questo servizio. 29 agosto 2011, è questa la data in cui in tutta l'Emilia Romagna è scattata l'applicazione dei ticket su farmaci e visite specialistiche, una partenza che ha trovato impreparato qualche cittadino. No, non lo sapevo. Tanto ormai tasse, ne paghiamo talmente tante, uno in più di meno. Non so niente. No, non sappiamo. Oggi è il primo giorno, non sappiamo tante cose. Sì, lo so. Lei è attrezzata, ha fatto qualcosa? No, io sono esente. Bisognerà pagare qualche euro in più sostanzialmente. E cosa dovrei essere contento? Costano già tanto, non so, non è una cosa simpatica. In regione, come noto, il ticket è stato modulato per fasce di reddito con la necessità per i cittadini di presentare un'autocertificazione. Nei primi giorni anche la consegna dei moduli ha creato qualche disagio. Ho ritirato il numero e c'è da aspettare. Quanti numeri ha avanti a lei? Circa 40 o 50 circa, insomma. Ho preso il 555 alle 10, adesso credo sia a mezzogiorno, sono a 326, quindi non so, dovrò aspettare altre due ore. Dalle 10 di stamattina, dalle 10 e 20 di stamattina circa. Quanto manca al vostro giorno? Parecchio. Sono belle tre ore. No, io sono arrivato da mezz'ora, però prevedo un'attesa molto lunga. Io sono a mezzogiorno e voglio aspettare qui, è dalle 9.50. Era molto più semplice, se io devo andare da un medico, devo fare una nana, la prima occasione presentavo l'autocertificazione. Cos'è fare la fila a tutti i cittadini? Sì, sto aspettando così, aiuto la moglie. Ha dovuto portare anche i bambini? I bambini sì. Quanto c'è da aspettare, ve l'hanno detto? Per fare questo il foglio? Adesso ne ho ora e mezza così. Fare l'autocertificazione è tuttora possibile, ma dal 3 ottobre chi non ce l'ha paga il ticket secondo la fascia massima. I rimineri si sono però attrezzati per tempo. Lei l'ha fatta l'autocertificazione? Certo, sì, sì. Eccola. Certo, sì, l'ho fatta. Sì. Se la porta sempre dietro? Quasi sempre, guardi. Non è tanto lontano. La porto sempre dietro, è naturale, sì. Come ha vissuto l'introduzione del ticket? Ma bene, non me ne sono neppure accorto dei cambiamenti, a dire la verità. Va bene, perché fra l'altro non sono neanche andata all'aslam, ma me l'hanno fatta in farmacia, quindi più bello di così. Queste alcune voci raccolte a suo tempo. Piva, mi rivolgo a lei, abbiamo visto qualche disagio iniziale, però poi i riminesi, ma anche in regione, la maggior parte si sono attrezzati, sono rimasti in pochi a non aver presentato l'autocertificazione. Sì, sì, più del 90%. I primi giorni sono stati indubbiamente di difficoltà per i cittadini, poi dopo sono stati introdotti, cioè, per i fax, posta elettronica, farmacie, patronati. Sì, tra l'altro è che molti si sono magari incaponiti ad andare all'auto, perché era appunto più affollato. Sì, sì, anche lì. Poi erano un mese, come ricordavo prima, tra fine lui e fine agosto, insomma un periodo anche dove l'attenzione magari su ciò che accade è anche minore, insomma. Adesso c'è il piccolo problema di dover girare andando in farmacia con il foglio con sé, ad esempio per consegnare. So che però alcune regioni si stanno attrezzando per una carta elettronica, per inserirlo nella carta sanitaria. Anche qui i dati poi saranno inseriti, i medici avranno, cioè andrà tutto inserito dopo. Una volta che verranno inseriti, sì, sì, da pochi. Io non credo che il cittadino andrà in farmacia col modulo, andrà con la ricetta dove già il medico avrà... È temporanea, dovrebbe essere... C'è il progetto sole. C'è il progetto sole. Quindi col progetto sole verranno inseriti e stampati. Verranno inseriti nei computer dell'Asia e quindi di conseguenza in rete anche nei computer dei vari medici di base, i quali quando stamperanno la ricetta avranno automaticamente stampato anche il codice relativo al reddito della famiglia, sì. Però ancora tuttora è abbastanza... cioè non si sa esattamente quando sarà implementato tutto il sistema, perché ovviamente la provincia è grande, sono più di 300 mila abitanti. Lombardi, se ne è accennato prima, secondo lei c'è il rischio che l'introduzione di questi ticket, anche in special modo sulle prestazioni specialistiche, porti la gente a andare verso il privato? Già è una tendenza che per via dei tempi in qualche modo è presente. Questo potrebbe essere un incentivo, secondo lei? Sicuramente sì, credo che la modulazione che è stata fatta serve proprio per evitare questo rischio. È chiaro che da questo punto di vista ci sarà anche una maggior valutazione da parte dei cittadini rispetto a chi offrirà il miglior servizio nel minor tempo, quindi credo che alla fine, visto che c'è stato questo inconveniente di aumento dei prezzi rispetto a queste prestazioni, almeno il cittadino avrà la possibilità di scegliere meglio. Annalisa la pensa così anche lei? Sì, sono d'accordo su questo discorso, tra l'altro alla fine le strutture che erogano prestazioni in convenzione, quindi strutture accreditate, alla fine offrono anche delle prestazioni pubbliche, quindi sono alla fine la stessa struttura che è all'interno sia il pubblico che il privato. Abbiamo raccolto altre voci, queste proprio recentissime, negli ultimi giorni siamo andati a vedere se dopo un ulteriore mese i cittadini sono preparati quando si recano in farmacia. Mi sono adeguata perché ovviamente ho bisogno delle medicine, quindi le prendo. Insomma è una spesa che questa purtroppo mi serve. Mi sono dovuta abituare per forza, però non sono d'accordo, da pagare il ticket. Eh sì, mi sono adeguata. Almeno così ognuno paga il giusto di quello che guadagna, il reddito. Penso che è giusto che si paghi perché si pagano tante altre cose, le medicine poi in particolare. Ne penso che una persona specialmente anziana che ha bisogno di tanti medicinali non dovrebbe pagare i ticket. Prima è cambiato che si pagano i ticket in base al reddito che uno ha. Prima vabbè non c'era, però adesso visto che c'è, perlomeno si paga in base al reddito che uno ha e non come altre regioni che si paga tutto uguale. Il foglio ce l'ha sempre con lei? Sempre, 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 ce l'ho nella borsa. Ma quell'arto certificazione non serve sui medicinali, i medicinali bisogna pagarli. Sempre, sempre dietro? No, porto dietro quando devo pagare le varie visite oppure prelievi, queste cose qua. Sempre ho il foglio, lo faccio vedere, adesso ormai qui mi conoscono. Il foglio ce l'ha sempre con lei? Sì, però questa volta non ho preso il portafoglio e non ce l'ho, perché lo tengo nel portafoglio. De Luigi, forse è quello che ancora manca un po' è un difetto di informazione. La gente si è mossa per fare l'autocertificazione, però non ha ben in mente se è esempio oppure no. Esatto, sì, noi chiaramente le farmacie forniscono un'adeguata informazione, però ovviamente chi arriva in farmacia deve essere informato prima, perché poi arriva lì magari con la ricetta, convinto di non pagare nulla e invece deve pagare. Il discorso fatto per esempio, abbiamo visto intervistate delle persone anziane, non basta, non è sufficiente l'età per avere l'esenzione, occorrono delle patologie croniche, ecco, quindi ci sono una serie di esenzioni dovute a patologie, però anche qui bisogna chiarire che uno è esente solo se ritira i farmaci inerenti alla patologia, quindi se li vengono prescritti i farmaci per una volta non inerenti alla patologia per cui ha l'esenzione, deve pagarlo il ticket se ha un reddito che supera i 36 mila Euro, ecco, quindi i cittadini vanno informati, quindi io prego di non distogliere un po' l'attenzione da una continua informazione anche fuori dalle farmacie, anche presso i medici di base, i medici di medicina generale, anche sui giornali, appunto anche in televisione, perché non tutti hanno ben chiaro, molti pensano che siccome sono anziani sono esenti, invece non è così in tutti i casi, insomma, ecco. Viva la Regione si è attivata anche dal punto di vista dell'informazione? Mi sembra di sì, insomma, io girando sia per farmacie, per ambienti sanitari, dai medici di medicina generale, quindi gli ambulatori dove la gente acceda ai servizi sanitari ospedaliere territoriali, insomma, a parte la stampa, qualcuno poi il giornale può anche non leggerlo, voglio dire, però la comunicazione, ripeto, pure in un periodo difficile è girata. Volevo, se mi permette, anche concordando un po' con quello che si diceva, che anche il pensiero della fuga nel privato, non perché il privato sia da perseguire, non è questo il discorso, però citando sempre la finanziaria del 2007, che poi dopo durò pochi mesi e a maggio del 2007 ritirarono il provvedimento, il governo, perché si erano accorti che monitorizzando qualche mese il 30% delle prestazioni erano scivolate dal pubblico al privato e questo con la doppia beffa, uno, non introiti il ticket, due, il laboratorio non è che lo chiudi anche se hai il 30% di lavori in meno o il personale, quindi capite che un ticket secco di 10 Euro come fu nel 2007 poteva avere, oltre che iniquità, anche questi pericoli. Direi che a conclusione di questa puntata c'è un atteggiamento bipartisan dai due esponenti politici che hanno concordato su molte cose nel corso di questa serata, io ringrazio tutti gli ospiti, prima però di salutarli nel dettaglio vogliamo lasciarvi, visto che si è parlato anche di visite specialistiche, con un altro clip, in questo caso un altro comico romano, forse definirlo comico è anche troppo poco, ma vediamo Alberto Sordi in una delle sue parti più riuscite. Buongiorno signori, eccolo, è lui che soffre di ulcera gastrica? No, è l'altro professore. È molto che lei soffre di ulcera gastrica? Saranno almeno 6 anni, recentemente ho avuto delle moragie, il dottor Teroni ha fatto le analisi e mi ha convinto di tornarsi in casa. No professore, di farmi operare. E va bene, il signore ha chiesto una camera a pagamento. Perché non vede di dire subito le cose? Il dottor Teroni ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino tra quello che mi dà la mutua e la retta? Sì, lo so, ma pazienza, pagherò la differenza, quando si sta male non bisogna badare l'economia. Complimenti, è così che deve parlare un paziente, bravo signore, signore. Addio Grisenti, fai lasciare un deposito. Salute professor, a noi! Ma chi? Un nevrotico, un nostalgico. E legati al braccio, no? E con questo noi siamo arrivati al momento dei saluti, ringrazio i consiglieri regionali di PDL e Partito Democratico, Lombardi e Piva, ringrazio Annalisa, Elisabettini di Feder Consumatori e il presidente di Feder Farma Rimini, De Luigi. Diamo appuntamento alla prossima settimana con diritto e rovescio.